Tutto questo è reso possibile dalla fruibilità dell'informazione, quindi da un sistema informativo già costruito in via di costruzione che adesso ci viene presentato da Rita Binelli. Io cercherò di illustrarvi brevemente quello che è il sistema informativo territoriale regionale che rappresenta lo strumento tecnologico di cui la Regione si sta adottando per supportare le azioni di governo del territorio. Avrei voluto presentarvelo direttamente dal sito internet della Regione, ma purtroppo in questa sala non è possibile, quindi vi farò vedere alcune delle immagini tratte dal sito che speriamo nell'arco di qualche giorno saranno visibili anche dall'home page della Regione. Diciamo che il sistema informativo territoriale della Regione è un progetto ambizioso che è partito già da 4 anni a livello di analisi di base e di progettazione. Diciamo che la risorsa finanziaria che è stata impegnata è per i tre quarti di natura ministeriale. Abbiamo avuto circa 15 milioni di euro da parte del Ministero dell'Innovazione Tecnologica che ci monitora in maniera costante tramite il CNIPA perché diciamo che siamo una delle regioni pilota per quanto riguarda questo tipo di sistemi formativi territoriali che si appoggiano in maniera pesante diciamo sul web. Quella che vedete adesso è la home page di quello che è il sito tematico della Presidenza. In questo sito diciamo noi vogliamo dare un'informazione il più completa possibile che c'è per chiunque, nel senso che poi non saranno solo tecnici che cercheranno di visualizzare il territorio ma potranno essere studenti o qualunque tipo di cittadino. Il sito è organizzato per aree tematiche e diciamo ha al suo interno diverse diverse aree che verranno sviluppate nel tempo. Diciamo che questa è soltanto la prima fase. Qua potete vedere un'immagine che sempre sarà visibile dal sito in cui si spiega come il sistema informativo territoriale regionale rappresenta, contiene al suo interno oltre al sistema informativo vero e proprio anche l'IDT che è l'infrastruttura di dati territoriali, cioè un modo diciamo se vogliamo diverso o più completo per chiamare i nuovi sistemi informativi territoriali così come vuole anche la Commissione europea che sta promuovendo l'iniziativa Inspire per diciamo l'uniformità dei dati, l'uniformità dell'informazione geografica. Diciamo uno degli strumenti più importanti che saranno utilizzabili all'interno di questo sito è il navigatore cartografico che è un web GIS ovvero uno strumento GIS che non utilizza nessun GIS software proprietario ma che è stato costruito e diciamo la regione ha acquistato completamente il codice proprio perché deve essere fruibile da chiunque. Questo strumento nella sua versione finale che speriamo sia entro due anni dovrà contenere al suo interno tutta una serie di strumenti che adesso non sono implementati e che cercheremo di implementare in funzione un po' di quelle che sono le esigenze dell'amministrazione regionale ma anche quelle che saranno poi le esigenze delle comunità locali alle quali è destinato diciamo la seconda parte del progetto che è in fase d'avvio il sit to com appunto il sit dedicato alle comunità locali. Questa è la pagina iniziale del navigatore cartografico potete vedere sulla sinistra tutti gli strumenti di lavoro sulla destra c'è la disponibilità cartografica ovvero di dati territoriali attualmente disponibile su web e attivando o spegnendo non so se si vede la freccia qua si potrà anche vedere tutte le leggende relative. Questo è un'altra immagine del navigatore cartografico con la zona dove siamo attualmente noi cioè arborea si possono notare abbiamo acceso qua l'ortofoto del 2003 con la carta dell'uso del suolo e se posso spendere una parola piccolissima su quello che è stato detto e rafforzare quello che hanno detto anche i miei colleghi diciamo che la carta dell'uso del suolo nello specifico ha dei un dettaglio scientifico che è quello della scala al 25 mila è ovvio che quando si hanno vignetti olivetti che scendono al di sotto dell'ettaro e mezzo questi non sono visibili quindi ho più che di errori cartografici che pura ci sono perché in tutti i prodotti esistono degli errori parlerei di dettaglio scientifico così pure di dettaglio scientifico parlerei dalla base cartografica che la regione attualmente ha su scala completa e quindi della carta tecnica al 10 mila non è possibile rilevare tutte le la viabilità che sono rurale del di tutti i paesi della sardegna ma è un dettaglio che che va approfondito come diceva anche il mio direttore tramite il col supporto dei comuni e diciamo che il sistema informativo territoriale ci dovrà anche aiutare in questa fase di dialogo e di condivisione delle informazioni. Questa è Alghero sempre dal navigatore attualmente in fase di partenza e un'intera sezione sarà dedicata a quella che è la pianificazione regionale intendendo come pianificazione regionale tutti gli strumenti di pianificazione che la regione vorrà utilizzare. Il SITR costituisce appunto la banca dati centrale nel senso che ogni assessorato avrà la sua banca dati. L'importante è che queste banche dati sia possibile visualizzarle anche in maniera unitaria in modo tale che non si sprechi tempo a recuperare dati che magari già un altro assessorato ha recuperato. Diciamo che in questa sezione attualmente come strumento e quindi come applicativo già pronto e che cercheremo di mettere online la prossima settimana è quello che ci consentirà di visualizzare gli strumenti urbanistici comunali almeno della fascia costiera. Perché? Perché questo è molto importante da poter condividere con le comunità locali in modo tale poi da poter verificare anche quelle che sono gli eventuali errori tra virgolette o le imprecisioni che comunque il piano in questa fase ancora ha. Lo strumento che stiamo mettendo a disposizione di tutti consentirà una doppia visualizzazione. È una visualizzazione che abbiamo chiamato anagrafica che darà la possibilità finalmente a tutti quanti di poter capire qual è lo strumento urbanistico vigente, quindi qual è lo strumento, se abbiamo un PUC, un PRG, un PDF e quali sono tutte le serie delle sue varianti. Metteremo online anche il raster, quindi gli originali delle carte ma volevo solo fare una precisione che diciamo tutti i dati sono stati presi in collaborazione con le province che comunque fanno parte a pieno titolo dell'ufficio di piano e è stato possibile quindi anche poter consultare la zonizzazione in vettoriale. Questa è un'immagine che ci dà la possibilità di capire la zonizzazione di non mi ricordo dove siamo qua, però comunque si vede già sull'ortofoto la zonizzazione comunale interpretata con una leggenda standard. Qua ci sono degli approfondimenti, cioè sarà possibile interrogare ogni zona urbanistica e là dove ci sono anche i dati di dettaglio sarà possibile visualizzarli così pure come sarà possibile visualizzare l'anagrafica in contemporanea. Questo è un dettaglio dell'anagrafica, questo è un dettaglio delle varie zone urbanistiche sull'intera cartografia. Un cenno a quelle che sono le altre iniziative che la regione sta portando a termine tramite l'infrastruttura del SITR e quindi la validazione dei dati comunali per il PPR, il SITR ha messo in campo delle schede che verranno messe a disposizione dei vari comuni che potranno precisare, correggere, aggiornare tutti i dati di base del PPR e parlo di dati tabellari in questo caso. Un ultimo cenno al progetto di cui parlavo prima, cioè il SITR alle comunità, appunto il SIT2.com tramite questo progetto noi metteremo a disposizione dei comuni, delle province, di qualunque comunità quello che si chiama il SIT comunale di base, ovvero il navigatore cartografico personalizzato per i comuni ovviamente non è un obbligo, noi diamo questa possibilità a chi vorrà coglierla, a chi non ha già un SIT comunale l'importante è che gli strumenti che si utilizzano siano interoperabili e colloquino fra di loro e quindi parleremo di concessioni edilizie, di pianificazione attuativa che attualmente non è visibile ma che è altrettanto importante come la pianificazione generale parleremo di demanio marittimo, di patrimonio immobiliare, di cartografia multiscala e di catasto dunque noi stiamo per aderire al progetto SIGMATER che è il progetto che a livello nazionale sta mettendo in campo la possibilità di avere con l'agenzia del territorio immediatamente il catasto aggiornato io avrei finito, grazie